Signor Fetterli, complimenti per il suo titolo onorario in Scienze e Medicina. Qual è stata la sua reazione quando lo ha saputo e come si sente adesso? La prima reazione è stata la totale sorpresa, ovviamente, non me l'aspettavo. Poi la seconda reazione è stato infatti il piacere, cioè il piacere che l'Università di Friborgo premia un impegno per la protezione della natura, cioè per una cosa che mette molto vicina. Voi ricerche hanno aboutito a un inventario completo di zone umida o paludate in Suisse, e voi siete anche molto engagati per la protezione della maria, diciamo in francese. Poi potete vi in dire più sui ricerche, sui vostri obiettivi e i vostri obiettivi? Bien volontiers, la maria sono in realtà meravigliosi, sono in una biodiversità meravigliosa, incredibile. Quando ho cominciato a me occupare, in gli anni 80, conoscevamo molto poco. La questione era di sapere, ma dove sono le marie di Suisse per sapere che per finire bisogna proteggere? E c'è per questo biais che abbiamo fatto un inventario di mare e mare di transizione di Suisse, questo è il nome offiziale di queste zone naturelle, un inventario che ha amenato, entretanto, il fatto che ci sono più di 500 di queste zone che sono oggi protegge. Nel contesto attuale, in cui tutte queste questioni di ambiente stanno diventando sempre più importanti, quali sono le principali sfide che ritiene debbano essere affrontate per garantire appunto la conservazione dell'ambiente e della biodiversità? Io devo fare una distinzione netta tra le sfide verso il mondo esteriore, per così dire, cioè se guardiamo il mondo come lo vediamo con i nostri occhi, e a questo livello certamente la biodiversità, la differenziazione delle specie, conservarla, è la sfida principale. C'è anche la sfida climatica, ovviamente, che attualmente è più attuale perché la gente la sente di più, anche se penso che la biodiversità sia più importante. Poi però c'è una sfida che per certi versi, secondo me, è ancora più importante ed è la sfida di come vincere la sfida, cioè di cos'è la posizione delle persone umane, degli umani, verso l'ambiente. Io personalmente mi occupo in particolare di questo rapporto dell'uomo con l'ambiente perché è il rapporto dell'uomo con l'ambiente che fa sì che oggi la natura viene sfruttata in maniera del tutto esagerata. Lei ha menzionato l'essere umano, c'è qualche consiglio da dare ai giovani che appunto si stanno interessando per tutte queste questioni di biodiversità e clima che magari vogliono pure studiare nello stesso settore? Ha qualche consiglio per i giovani? Beh, io se dovessi consigliare ai giovani direi fate tutto per essere voi stessi. Sembra un consiglio un po' strano perché in realtà se si pensa alla biodiversità o alla protezione dell'ambiente si pensa a queste cose esterne, allo sviluppo durevole, al fatto di non sfruttare troppe risorse. Tutte cose importanti. Però se si vuole arrivare a non sfruttare troppo le risorse, bisogna avere persone mature, coscienti di sé, persone che sono se stesse, che non fanno quello che vogliono gli altri, ma quello che vogliono loro. Un'altra domanda che mi trovo, che mi trovo, è una delle più interessanti per me a posare, è che avete un double ruolo. Cioè, potre dire, potre dire che sei un po' un activista, inoltre un scientifico. Quali sono i dettagli e la satisfazione di liare i due conti? Bon, moi, je veux dire que je suis tout d'abord ou je me ressens tout d'abord comme activiste. Les sciences sont d'une qualche maniera un outil très important, en fait, pour atteindre des buts. Et comme je vais le présenter ce soir à la conférence que je vais donner à l'Uni, j'aimerais combiner cet aspect où il y a l'aspect des sciences qui est important pour gagner le défi écologique, mais d'autre part, il y a aussi toute la dimension intérieure, plus psychique, spirituelle, intérieure, qui sont en fait les présupposées pour arriver à gagner ce défi. Et c'est cet aspect-là que j'aimerais souligner beaucoup. Peut-être une dernière question qui me vient à l'esprit. Qu'est-ce que vous répondez à une personne qui vous dit, mais ça, ce n'est pas du tout objectif, l'activisme n'a rien à chercher dans les sciences. Aucun problème, parce que c'est justement cet aspect très intéressant qui combine, d'un côté, l'objectivité des sciences, dont nous avons absolument besoin, avec le côté que l'homme est un sujet. Il est subjectif, donc. Donc, ce n'est pas possible de réduire l'être humain à quelque chose d'objectif. Ce serait une faute fondamentale. D'ailleurs, on le voit du fait que les sciences font une telle pression, d'une quelque manière, vers l'objectivité, que les individus se sentent toujours plus petits, plus limités, ils ont l'impression d'avoir moins d'effets, moins d'influence, et perdent, pour finir, beaucoup d'énergie. Moi, je vois là-dedans, dans ce phénomène, que j'appelle dépression, parce que le manque d'énergie est un typique phénomène subjectif. Je vois là-dedans, la petitesse humaine a la fausse place par rapport à la grandeur de l'objectivité des sciences naturelles. Sous-titrage Société Radio-Canada